Ciao, grazie. Allora, dici qualcosa sul tuo personaggio e sulla serie da qui viene? Allora, interpreto Suzuya, che è un personaggio di Tokyo Ghoul, e è un... sono emozionatissima... Anch'io! Bene. Praticamente è un cacciatore di ghoul, fa parte della divisione anti-ghoul, e appunto questa è la sua arma, è una kink che si chiama Jason, e... nulla, così. Grazie, possiamo dare via l'esibizione. Un bel applauso! Grazie a tutti!